Ciao a tutti, sono Alessandro Tonelli e sono il titolare di InBeauty, una azienda che importa in esclusiva in Italia una linea cosmetica svizzera particolare, le prime creme con ossigeno. Ha un corso molto ben organizzato e ritengo un passaggio fondamentale per chi vuole affrontare seriamente l'e-commerce perché oggi spesso, anche io ho un e-commerce fatto inizialmente da me, ma se vuoi affrontare veramente seriamente il settore dell'e-commerce che è in grande sviluppo, è importante affrontarlo con il tutto giusto. e quindi nel mio caso a tutti gli imprenditori che vogliono investire in questo trend crescente dell'e-commerce.